Integrazione, efficienza energetica ed internazionalità, sono queste le tre parole chiave della 39esima Mostra Convegno Expo Comfort che si è tenuta a Milano dal 18 al 21 marzo. Sono oltre 2000 gli espositori presenti, di cui il 43% stranieri. Per un settore sempre più caratterizzato da un alto livello tecnologico e decisamente strategico a livello globale. Scopriamo insieme la Global Comfort Technology. Noi siamo la filiale italiana di Mitsubishi Electric Corporation in Giappone e quindi cerchiamo di trasferire tutte quelle che sono le esigenze dei nostri clienti in Italia ai nostri colleghi per sviluppare dei prodotti idoni al mercato di riferimento. Per quanto riguarda lo sviluppo dei prodotti abbiamo qua proprio la nostra linea di prodotti che si chiama Kirigamine Zen che è stata sviluppata per il mercato europeo ma con una forte imprinting dell'Italia. Cioè l'Italia nello sviluppo dei prodotti, siccome in Italia chiaramente il design e l'eleganza dei prodotti è fondamentale per i nostri clienti, abbiamo dato questo input e è nata questa linea di prodotti. In termini di formazione abbiamo un training center per cui un centro di formazione dedicato ai nostri clienti che sono gli installatori per formarli al meglio sulle nuove tecnologie e sulle normative in corso per adeguare quella che è la richiesta del mercato e la migliore installazione dei nostri prodotti sul mercato. Sì, riaffermare la nostra presenza, la nostra leadership e dare comunque anche un input per i nostri prodotti sia in Italia ma anche ai nostri paesi di riferimento all'estero. Grazie a tutti.